Dopo il 1865 nella pittura di Mania affiora anche l'influsso dell'arte orientale delle stampe giapponesi che da alcuni anni colleziona. Il pittore trascrura la profondità spaziale, elimina il modellato e taglia le figure ai margini della tela, mentre le masse compatte tendono ad avanzare verso lo spettatore, instaurando con esso un'insinuante complicità spaziale e psicologica. La lettura, un altro stupendo ritratto della moglie iniziato nel 1865 e completato qualche anno dopo con la figura del figliastro figlio, questione enigmatica nella vita dell'artista, è una delle prove più alte della fulminia capacità di sintesi raggiunta da Mané, della sua pittura secca e rigorosa, ridotta alle linee e ai colori essenziali. In questo caso una vera sinfonia di bianchi e di verdi. Il virtuosismo del suo pennello è stupefacente. Secondo Cézanne Mané i toni li sputa sulla tela. Questo pennello che non sbaglia mai rinnega infatti il tratteggio metodico e continuo per un insieme sprezzante di rapidi tocchi sicuri, appoggiati con quella grazia suprema che dà l'apparenza della falsidità, come afferma Jamot e che è invece frutto di un'applicazione testarda e meticolosa. Mané si distingue dai suoi amici impressionisti per la divisione dei dipinti in grandi zone chiare e scure, come nell'Olimpia, oppure in zone più o meno scure, come nella colazione nello studio del 1868, ora nella New Pinacotech di Monaco. Verso gli ultimi anni della sua vita Mané dice all'amico Antonin Proust, una volta Courbet diede una risposta superba a De Bigny che lo complimentava per uno studio di marina. Questo non è uno studio di marina, rappresenta un'ora, ecco quello che la gente non capisce ancora. Non si dipinge un paesaggio, una marina, una figura, si dipinge l'impressione di un'ora del giorno. Con questa frase l'artista riprende un concetto caro a Moné e lo adatta alla sua personale visione dell'impressionismo. Per Mané la pittura è registrazione immediata, flagrante, non tanto di un'esperienza visiva, quanto di un'esperienza di vita. L'opera d'arte è trascrizione di una sensazione a contatto con la realtà, una sensazione determinata dalle condizioni del luogo e del momento, non dai parametri culturali forniti dalla tradizione e dai canoni classici di trascrizione del reale. All'artista moderno si offre una gamma di soggetti senza limiti e senza prescrizioni, rappresentata dagli eventi della vita moderna che avvengono nel momento in cui il pittore li fissa sulla tela e la cronaca diventa storia.